Appuntamento del lunedì della sopa opera spagnola di Canale 5 ben ritrovati con nuovo spazio. Cato alla sopa opera spagnola di Canale 5, una vita. La seguitissima sopa opera ambientata da Cacias, sembra proprio che per il momento non andrà in onda in prime time. Cosa vedremo nel prossimo episodio che andrà in onda domani pomeriggio, lunedì 9 dicembre 2019, subito dopo la serie Beautiful. E prima del segreto di Puente Viejo? Per scoprirlo vi consigliamo di leggere l'intero articolo dove troverete tutti le anticipazioni dettagliate. Spoiler una vita. Raul ferito dal padre e gli spoiler sul nuovo episodio della sopa opera iberica Una vita a Cacias 38. Da domani pomeriggio, lunedì 9 dicembre 2019, svelano che Raul sarà spaventato nel vedere tanta cattiveria in suo padre. Raul si ribellerà a lui, per difendere la vita di sua madre Carmen. L'azione sarà abbastanza tesa e la cameriera non saprà come uscire da questa brutta situazione. Yavier alla fine ferirà suo figlio che verrà successivamente portato in ospedale e l'uomo, per fortuna, finirà in carcere. Padre Telmo, nel frattempo, verrà a sapere chi è il vero artista che ha eseguito le opere restaurate da Lucia. Cadrà? Per scoprirlo vi consigliamo di continuare a guardare la sopa opera iberica di Canale 5. E per rivedere le puntate basta semplicemente collegarsi al portale web Mediaset Play e cercare Nell'apposita sezione dedicata allo sceneggiato di Aurora Guerra Una vita, anticipazioni. Lucia esala l'ultimo respiro tra le braccia di Telmo giungono degli spoiler drammatici su ciò Che accadrà nelle prossime puntate italiane della seguitissima sopa opera Una vita Il pubblico dovrà dire addio alla nuova protagonista, Lucia Alvarado, che farà la sua definitiva uscita di scena Picca ereditiera, perderà la vita dopo essere diventata l'amante di padre Telmo Martinez Regina della defunta Celia, morirà tra le braccia dell'ex parroco, dopo aver lottato contro Una patologia mortale per diverse settimane Come la prenderà l'ex prete? Lascerà definitivamente Acacias 38? La patologia mortale per diverse settimane